Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio parlare di Blippar, The R Browser. È un sistema di riconoscimento automatico dell'immagine degli oggetti e permette la creazione di oggetti aumentati. Con il sistema di riconoscimento automatico dell'immagine degli oggetti si possono vedere in realtà aumentata moltissimi prodotti commerciali di uso comune e artistici presenti nel database di Blippar. Ma soprattutto si possono vedere gli oggetti educativi in realtà aumentata da noi prodotti con Blippar Studio. Blippar consente di creare modelli 3D di realtà aumentata, la creazione di scene aumentate e il riconoscimento di oggetti e monumenti, come vi dicevo. Blippar per i prodotti e gli oggetti proposti nel suo database si comporta come aura universale, non richiede iscrizione a canali. Per gli oggetti da noi prodotti in Blippar Studio rilascia ogni volta un codice da inserire che può essere inviato agli utenti o agli studenti. Questo è un esempio di Blippar per il riconoscimento degli edifici e questo delle opere d'arte. Blippar permette anche il riconoscimento di prodotti di uso e di consumo comune, come il vaso di Nutella con le info aumentate. La realtà aumentata può essere di grande motivazione e coinvolgimento per le classi, facilita l'apprendimento di argomenti complessi, approfondendo nel contenuto, lanciando immagini, informazioni aggiuntive e media correlati. È inclusiva. Usare realtà aumentata rende interattiva la conoscenza, facilita l'inclusione e il pensiero creativo, presenta aspetti ludici e creativi. È assolutamente in effetti creativo costruire con AR, coinvolgere gli studenti nelle pratiche e nella ricerca delle informazioni, garantisce il successo e la soddisfazione della pubblicazione. Per creare AR con Blippar si deve andare poi sul sito che Builder Create. Ecco, ora vediamo come costruire delle immagini in realtà aumentate con Blippar. Bisogna entrare nel sito, registrarsi e creare un new project. Mettiamo il nome del new project, lo chiamo Nordone. Ok. E Create. Con Create adesso mi farà entrare gradualmente nella applicazione. Mi dice Create Blippar. Blip Builder. Ok. Mi dice di trascinare qui l'immagine, l'immagine per chi mi servirà come marker per l'applicazione e trascino l'immagine che ho preparato. Quindi, vado in continuo. Mi sono sbagliata. Metto lì il titolo dell'immagine, scrivo libro. e andiamo in continuo e mi crea il mio Blippar. Ora entro subito nella mia dashboard, l'ha caricata e vedete che ho a disposizione. Mi ha caricato anche l'immagine del marker. Ho a disposizione nella barra laterale a sinistra elements con 3D shapes e il resto da poter inserire nella mia scena 1. Sono dei widget che sono audio, video, bottoni a Facebook e così via. e poi negli upload ho la possibilità di uploadare immagini aggiuntive o delle scene successive alla prima che si è creata automaticamente, che vado a rinominare come esempio, posso dare qualsiasi nome, Giorgio Nardone, chiamiamolo così, che so che è l'inizio, è la scena 1 e potrei aggiungere come vedete altre scene, ma qui mi limiterò a fare soltanto una scena. Intanto nella zona upload mi dice che posso caricare le mie immagini, vado a caricare un'immagine, lo faccio trascinandola dalla mia cartella, nella dashboard, nella parte destra. Intanto lui, vedete che pianino pianino mi carica l'immagine che io avrò cura poi di posizionare sul mio marker, ho trascinato l'immagine, la rimpicciolisco, la posizione dove voglio nel marker e poi una importante cosa è che posso introdurre delle animazioni con questa immagine andando nell'animation layers, nella parte sinistra della finestra e l'ho aperta, vedete, l'ho selezionata e a destra posso usare i motion effects e trascino il move in un punto della linea del tempo, l'ho sposto un attimo, per far muovere la mia icona, ma contemporaneamente metto anche un move effects, metto anche un fade out, che per far scomparire, poi questi elementi li sposto come voglio, per far scomparire la mia icona. Posso allungare naturalmente le icone in questo modo posso vedere l'effetto di questa applicazione di contenuti, adesso vedete che lo scorrimento me la fa scorrere, adesso scomparire. Ok, voglio aggiungere sempre nella mia, nel mio marker, sul mio marker, un link a un video che spiega, che avevo preparato precedentemente, che spiega il contenuto del libro, recensisce il libro su YouTube, quindi trascino l'icona di YouTube e la sistema. Vado nella colonna a destra della mia dashboard e metto, mi chiede di mettere la username del channel del mio video e che io incollo, invio e così ho messo anche questa funzionalità. Voglio, tanto per farvi vedere, inserire pure un audio, quindi vado in widget e trascino l'icona dell'audio, che naturalmente rimpicciolirò, metto la posizione qui, l'audio, tiro su un po' YouTube, l'audio qui, e mi dice vi avevo audio file, che andrò a prendere nella cartella che ho a disposizione sul mio computer degli audio, la trascino, trascino il file mp3 e lui me lo carica. Come potete osservare ha caricato anche questo, ora voglio aggiungere un testo, anche se i testi si vedono poco, in elements vado in test, aggiungo test, vedete sempre nella barra destra, invece del sample test, aggiungo scuola di psicoterapia breve e breve e mi dice di, faccio invio perché compaia il testo, vedete che compare, rimpicciolisco la finestra, lo posiziono qui sotto, do un color black e nella parte del setting, mi dice no action, io metto un'azione invece e quindi vado a, voglio creare un link a un website e vado in website, dovrò mettere l'indirizzo qui l'urla del website, ecco inserisco allora l'urla del sito della scuola di psicoterapia, faccio invio e questo sarà poi visibile, a questo punto faccio preview, con il preview mi dà il test calls e vado su continue e come vedete ho fatto, ho realizzato il mio blip e mi rilascia anche il numero del codice che andrò a inserire sul mio cellulare aprendo l'applicazione, vado in publish to test e quindi mi pubblica in text mode. Ho aperto l'applicazione sul mio cellulare come potete vedere, adesso vado a inserire il numero del codice e vado in inserisci codice a prova e inserisco qui il numero del codice che è a 107 a 206 e 2 e confermo, ok, chiudo questa finestra e vado a ora che ho il codice a puntare, punto sulla immagine e vedete che me la sta caricando, immagine, mi permette di accedere a youtube, immagine, chiudo youtube qui c'è il mio tutorial e poi di play l'audio che avevo messo e di cliccare sul collegamento al centro di terapia strategica e chiudo anche questo. Volevo dirvi che adesso vado in close e potete di nuovo vedere che ho tutte le informazioni a mia disposizione sull'applicazione, ok, quindi vedete che abbiamo creato la nostra applicazione di realtà aumentata. Buonasera Buonasera Buonasera